Gesù è incontro, non esclusione, lo ha detto Papa Francesco nel discorso al movimento apostolico ciechi, alla piccola missione per i sordomuti e all'unione italiana ciechi e ipovedenti. Come insegna il Vangelo, ha detto il Papa, la persona malata o disabile, proprio a partire dalla sua fragilità, dal suo limite, può diventare testimone dell'incontro. L'incontro con Gesù, che apre alla vita e alla fede, l'incontro con gli altri, con la comunità. In effetti, solo chi riconosce la propria fragilità, il proprio limite, può costruire relazioni fraterne e solidali nella Chiesa e nella società. Al movimento apostolico ciechi, Papa Francesco ha chiesto di far fruttificare il carisma di Maria Motta, donna piena di fede e di spirito apostolico, alla piccola missione per i sordomuti di seguire sempre il venerabile Don Giuseppe Gualandi. Solo Gesù, ha concluso il Papa, può liberare dalla chiusura e dal pessimismo sterile e aprire alla vita e alla speranza. Grazie a tutti.